Presidente, in questo momento di particolare complessità di mercato e di difficoltà politica, Assobiomedica è impegnata nella promozione del valore della medicina di laboratorio. Con quali attività? Sono due fondamentalmente i punti su cui l'associazione sta lavorando in maniera anche abbastanza determinata e penso anche risolutiva almeno per i prossimi mesi. Uno è sicuramente la creazione e quindi la realizzazione definitiva di un tavolo di stakeholder in cui far confluire tutte le professionalità, le competenze, le esperienze che questi stakeholders hanno maturato nel corso della loro attività professionale. Mi riferisco alla medicina di laboratorio, ma mi riferisco anche all'industria, ai pazienti, ai cittadini rappresentati dalla cittadinanza attiva e così anche alle società di rappresentanza di settori amministrativi quali Fiaso e Fare. L'altro grande capitolo è quello relativo allo screening e alla prevenzione. Il nostro obiettivo, almeno dalle strategie condivise più volte anche con i nostri partner delle società scientifiche, è quello di dare nei prossimi mesi, di darci come obiettivo la realizzazione di alcune attività. Mi riferisco quindi alla valorizzazione del dato diagnostico attraverso l'affermazione della necessità di uno screening, una prevenzione diagnostica che porti i reali risparmi auspicati all'interno del settore. Non ci può essere un risparmio reale se allontaniamo, se continuiamo ad allontanare, anche attraverso purtroppo le spending review, se continuiamo ad allontanare i pazienti e i cittadini dall'ambito delle cure a cui sono solitamente recarsi. Insomma, sono solito recarsi.